A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale per le comunali ad Alife, la febbre sale vertiginosamente, non sono mancati i veleni che quasi sempre scandiscono i giorni e poi le ultime frenetiche ore prima di entrare in cabina. Noi abbiamo sentito il dottor Salvatore Cirioli, candidato a sindaco per la lista Uniti per Alife. Allora dottore, una campagna elettorale credo abbastanza velenosa, perché? Come tutte le campagne elettorali in un piccolo comune, bene o male, anche se uno cerca di tenere i toni bassi, poi si esce su degli argomenti un po' piccanti e praticamente a volte si può anche sconfinare un pochettino, però penso che non sia stata una cosa proprio molto molto eclatante. Ci sono degli argomenti molto importanti, molto sentiti nella campagna elettorale, però non penso che siamo andati oltre proprio su cose proprio brutte. C'è stato qualcosa, qualche frase che le ha colpito di più da parte del suo avversario? No, da parte del mio avversario la cosa che mi ha colpito di più è che di fronte ai dati che gli ho tirato fuori, lui si è arrampicato sugli specchi e non è riuscito a dare nessuna spiegazione agli elettori sull'indebitamento che c'è in questo comune, che è molto molto forte. Per quale motivo gli elettori dovrebbero votare a lei? Perché il mio avversario Roberto Vitelli, che premetto i giudizi sono sempre politici, non sono mai personali, siamo amici dall'infanzia, il mio antagonista ha già amministrato ad Alife, secondo me ha amministrato male, io non ho mai amministrato e siccome Alife sta in una situazione di degrado assoluto bisogna cambiare, bisogna voltare pagina. Secondo lei qual è il primo problema che lei affronterà qualora diventasse sindaco? Allora, io come ho detto sul palco non me la sento di fare promesse agli elettori di opere faraoniche ed altro, per me la cosa importante è quella di recuperare la normalità da Alife che non c'è, di migliorare la vivibilità e di mettere in condizioni i cittadini alifani di vivere meglio, fornendo servizi, strutture essenziali, non come favori ma come diritto dei cittadini. Le preoccupano i conti del Comune, visto che abbiamo parlato di conti e innanzitutto come penserà di risolverli? Allora, i conti del Comune come abbiamo detto è stato il punto dolente di questa campagna elettorale, c'è un indebitamento di oltre 11 milioni di euro che noi dovremmo pagare fino al 2044 attraverso il DL35 che ci stanno, ma diciamo che questa è stata una fortuna perché se non fosse stata messa in atto dall'amministrazione precedente questa procedura fatta proprio per le amministrazioni indebitate, a questo punto eravamo sull'orlo del dissesto e quindi comunque non si poteva proprio amministrare. Qual è il tema che le interessa di più, che le tocca più da vicino e che farà come primo provvedimento? Allora, il primo provvedimento è quello là di ristrutturare e di recuperare il centro storico che ormai è morto. Io ho promesso una detassazione di tutte le imposte comunali per cinque anni, un contributo sul fitto per tutti i commercianti che apriranno un'attività commerciale ad Alife, dopodiché vedremo la situazione e poi passeremo a fare anche opere più importanti, però la prima cosa sarà questa qua. Ecco, adesso ho la possibilità di mandare un messaggio agli elettori. Agli elettori dico soltanto che, come già ho ripetuto prima, degli avversari già abbiamo la prova di come hanno amministrato. Noi siamo, e soprattutto io sono una persona nuova, sono una persona concreta, datemi fiducia perché vi dimostrerò che è possibile far cambiare Alife e farlo rinascere. Da Alife è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it